amici e amiche bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala giunto alla seconda parte della ventiquattresima puntata ci siamo lasciati la volta scorsa vedendo Gesù in lacrime per i cuori talmente duri da non cedere neanche dinanzi al più strepitoso dei suoi miracoli quale quello della risurrezione di Lazzaro peraltro come abbiamo avuto modo di rilevare e di notare dalla lettura del testo un miracolo proprio voluto da Gesù preparato pur con tantissima sofferenza e appunto perché costato tantissimo ma voluto allo scopo di dare la prova suprema della sua divinità e di raccogliere anche una sfida ci siamo lasciati la volta scorsa con Gesù che interloquiva con un arcigno fariseo di nome Sadoc che lo aveva appunto sfidato proprio su questo punto voglio proprio vedere se sei capace di ricomporre una carne putrefatta e Gesù aveva dato questa dimostrazione quindi a farci comprendere che il Signore dà la possibilità a chi non chiude completamente il cuore di credere anche talora come dire secondando delle richieste estreme come come in questo caso abbastanza evidente ora ci siamo lasciati appunto con tutti che si dirigono verso l'interno quindi verso la casa e riprendiamo la lettura da dove ci siamo appunto fermati entrano in una sala Lazzaro non c'è e non c'è lo zelote ma Marta c'è felice trasfigurata di gioia si poggia Gesù spiegando Lazzaro è andato al bagno per purificarsi ancora oh maestro maestro che dirti lo adora con tutta se stessa nota la tristezza di Gesù e dice sei triste signore non sei felice che Lazzaro le viene un sospetto oh tu sei serio con me ho peccato è vero abbiamo peccato sorella dice Maria no tu no oh maestro Maria non ha peccato Maria ha saputo ubbidire io solo ho disubbidito io ti ho mandato a chiamare perché perché non potevo più sentire che si insinuassero che tu non eri il Messia il Signore e non potevo più vedere quel soffrire Lazzaro ti voleva tanto ti chiamava tanto perdonami Gesù e tu non parli Maria interroga Gesù maestro io io non ho sofferto allora altro che come donna soffrivo perché Marta giura giura qui davanti al maestro che mai mai dirai a Lazzaro il suo delirio maestro mio io ti ho conosciuto del tutto o divina misericordia nelle ultime ore di Lazzaro oh mio Dio ma come mi hai amata tu tu che mi hai perdonata tu Dio tu puro tu sei mio fratello che pure mi ama che però è uomo soltanto uomo non ha in fondo al cuore perdonato tutto no dico male non ha dimenticato il mio passato e quando la debolezza del morire ha ottuso in lui la sua bontà che io credevo dimenticanza del passato egli ha urlato il suo dolore il suo sdegno per me oh Maria piange non piangere Maria dice Gesù Dio ti ha perdonata e ha dimenticato l'anima di Lazzaro pure ha perdonato e ha dimenticato ha voluto dimenticare l'uomo non ha potuto tutto dimenticare e quando la carne ha dominato col suo spasito estremo la volontà illanguidita l'uomo ha parlato non ne ho sdegno signore mi ha servito ad amarti di più e ad amare ancora di più Lazzaro è stato da quel momento però che io pure ti ho desiderato perché era troppo angoscioso pensare Lazzaro morto senza pace per causa mia e dopo dopo quando ti ho visto scarnito dai giudei quando ho visto che tu non venivi neppure dopo la morte neppure dopo che io ti avevo ubbidito sperando oltre il credibile sperando fin quando il sepolcro si apri a riceverlo allora anche il mio spirito ha sofferto signore se avevo da espiare e certo l'avevo io ho espiato signore povera Maria dice Gesù conosco il tuo cuore tu hai meritato il miracolo e ciò ti affermi nel saper sperare e credere mio maestro io spererò e crederò sempre ormai io non dubiterò più mai più signore io vivrò di fede tu mi hai dato la capacità di credere l'incredibile e tu Marta tu hai imparato no non ancora sei la mia Marta ma non sei ancora la mia perfetta adoratrice perché agisci e non contempli è più santo tu vedi la tua forza perché troppo volta a cose terrene ha ceduto la constatazione dei fatti terreni che sembrano tra loro senza rimedio in verità non hanno rimedio le terrene cose se Dio non interviene la creatura per questo ha bisogno di saper credere e contemplare di amare sino all'estremo delle forze di tutto l'uomo con il pensiero l'anima la carne il sangue con tutte le forze dell'uomo ripeto io ti voglio forte Marta io ti voglio perfetta non hai saputo ubbidire perché non hai saputo credere e sperare completamente e non hai saputo credere e sperare perché non hai saputo amare totalmente ma io te ne assolvo ti perdono Marta ho risuscitato Lazzaro oggi ora ti do un cuore più forte a lui ho reso vita a te in fondo la forza dell'amare credere e sperare perfettamente ora siate felici e in pace e perdonate a chi vi ha offeso in questi giorni è assolutamente necessario fare la prima pausa la prima sosta per evidenziare e rilevare alcune cose molto importanti la prima Gesù che spiega la vicenda di Lazzaro penso che ricorderemo la puntata sono un paio di puntate fa dove abbiamo sentito Lazzaro appunto nel delirio immediatamente precedente alla morte dirne un sacco e una sporta alla povera Maria di Magdala quindi di fatto urlargli urlarle tutto il suo passato vergognoso quasi rinfacciandoglielo anzi senza neanche quasi però lo stava facendo in un momento appunto di delirio quindi nel momento in cui la carne dice Gesù ha dominato col suo spasito estremo la volontà l'uomo ha parlato e dice una cosa molto importante ha dimenticato perché ha voluto dimenticare però l'uomo quindi cioè la parte naturale di noi stessi come fa a dimenticare quando noi viviamo una cosa bruttissima una persona che ci fa soffrire delle cose orride orribili dimenticarle dovremmo farci fare l'elettro shock quindi è possibile però perdonare quindi l'anima che dimentica perdonare soprannaturalmente quello si può sempre perché quello è un atto della volontà io dico voglio non pensarci più voglio non ricordare voglio dimenticare voglio dare un'altra possibilità a questa persona che ha combinato questo guaio voglio credere che è cambiata voglio credere che si è convertito allora attenzione perché questo è un concetto fondamentale ripeto anche nell'altro ciclo di catechesi quello dedicato al mistero di giuda una cosa molto importante in questi scritti Gesù evidentemente in piena consonanza con la sana dottrina cattolica evidenzia il ruolo primaziale della volontà dell'uomo nelle sue scelte e nelle sue azioni abbiamo già visto anche in Maria di Magdala Maria di Magdala è cambiata perché ha voluto cambiare certo evidentemente c'è stata tutta quanta un'operazione della grazia tutta quanta una strategia anche messa in campo da Gesù abbiamo seguito il percorso dal primo incontro alla parabola della pecorella smarrita e poi al pianto liberatore a casa di Simone il fariseo ma lei ha voluto ricordiamo i momenti in cui sembrava bondeggiare quando faceva la matta vicino a Marta diceva no io qui io ho ancora questa cosa che mi prende non riesco e come ha fatto ha voluto ciò che Gesù dice a Marta i rimproveri che fa a Marta sono rimproveri attinenti a questo perché le dice attenzione tu non hai saputo credere e sperare completamente ma non hai saputo credere e sperare completamente perché non hai saputo amare totalmente ora però chiedo e poi dico amare è un sentimento o è un atto della volontà sappiamo che amare è un comandamento no amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze è il primo comandamento e il secondo è simile al primo amerai il tuo prossimo come te stesso ora se amare fosse un fatto sentimentale quindi un fatto del cuore entrerebbe subito in gioco il proverbio popolare no come dice al cuore non si comanda quindi non potrebbe sussistere il primo comandamento perché se amare un fatto del cuore come fai a dire questo è il primo comandamento amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore con tutta l'anima con tutte le forze sarebbe impossibile sarebbe impossibile allora amare è un atto anzitutto della volontà è un atto della volontà perché un uomo e una donna secondo evidentemente la sana dottrina cattolica possono amarsi totalmente anche come uomo e come donna solo dopo aver celebrato il sacramento del matrimonio tra le tantissime motivazioni che ci stanno è perché solo nel sacramento del matrimonio si esterna un atto di volontà definitivo e irrevocabile quindi all'amore evidentemente tra uomo e donna che certamente non solo che comprende la dimensione sentimentale affettiva ma ordinariamente nasce in questo mondo perché l'innamoramento non è un fatto della volontà è un fatto legato all'attrattiva e al sentimento non sappiamo neanche come 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 nasce però quello non basta per poter dire che tra un uomo e una donna c'è l'amore no l'amore bisogna dichiararselo e prometterselo solennemente pubblicamente allora dopo dopo ne parliamo dopo non prima allora credere e sperare incredibile sono proporzionati all'intensità e alla profondità dell'amore e all'autenticità dell'amore cioè alla scelta irrevocabile e definitiva che noi abbiamo fatto di riconoscere Gesù come unico Dio e unico Signore ma capite no se c'è questa cosa è evidente che quando Gesù mette alla prova in grado eroico la fede e la speranza come è stato in questo caso la prova si supera perché non soltanto perché io credo che quello è il suo di Dio ma se io amo qualcuno ma io faccio qualunque cosa che l'amato mi ha detto capite quando noi siamo stati innamorati lo sono stato anch'io quando uno è veramente innamorato proprio che non capisce più niente no farebbe qualunque cosa per la persona amata o no quindi tu hai disubbidito andando da mandare a chiamare prima prima del tempo perché ancora devi crescere nell'amore questo è quello che dice Gesù e se ci pensiamo è proprio così allora riprendo la lettura perdonate a chi vi ha offesi in questi giorni signore in questo io ho peccato poco fa al vecchio canania che ti aveva schernito gli altri giorni ho detto chi ha trionfato tu o Dio il tuo scherno o la mia fede qui sta parlando Maria di Magdala Cristo è il vivente della verità io lo sapevo che la sua gloria sarebbe rifulsa più grande e tu vecchio rifatti l'anima se non vuoi conoscere la morte questa è proprio lei hai detto bene dice Gesù ma non contendere con i malvagi Maria e perdona perdona se mi vuoi imitare ecco Lazzaro ne sento la voce interessante qui piccolissima non contendere quei malvagi perché perché inutile con quelli che hanno la volontà radicata nel male inutile mettersi a discutere infatti Lazzaro entra rivestito di nuovo e tutto rasato sulle guance con i capelli regolati e odorosi di essenze con lui sono Massimino e lo zelote maestro Lazzaro si inginocchia ancora adorando Gesù gli pone la mano sul capo e sorride dicendo la prova è superata amico mio per te e le sorelle ora siate felici e forti a servire il Signore che ti ricordi amico del passato voglio dire delle tue ore estreme un grande desiderio di vederti ed una grande pace fra l'amore delle sorelle e che ti doleva di più di lasciare morendo te Signore e le sorelle te per non poterti servire esse perché mi hanno dato ogni gioia oh io fratello sospira Maria tu più di Marta risponde Lazzaro tu mi hai dato Gesù e la misura di ciò che è Gesù e Gesù ti ha dato a me tu sei il dono di Dio Maria lo dicevi anche morendo dice Maria e studia il volto del fratello perché è il mio costante pensiero ribatte Lazzaro ma io ti ho dato tanto dolore riprende Maria anche la malattia ha dato dolore risponde Lazzaro ma per essa spero avere spiato le colpe del vecchio Lazzaro e di essere risorto purificato per essere degno di Dio tu e Dio i due risorti per servire il Signore e Marta fra noi lui che fu sempre lei che fu sempre la pace della casa lo senti Maria Lazzaro dice parole di sapienza e di verità dice Gesù ora io mi ritiro e vi lascio alla vostra gioia no Signore tu resti con noi qui resti a Betania e nella mia casa sarà bello resterò ti voglio compensare di tutto quanto è patito Marta non essere triste Marta pensa di avermi addolorato ma la mia pena non è per voi quanto per coloro che non si vogliono le dinere essi odiano sempre più hanno il veleno nel cuore ebbene perdoniamo perdoniamo Signore dice Lazzaro consumite sorriso e su questa parola tutto a fine bene amici vedete che come vi accennavo abbiamo terminato la sezione dedicata alla risurrezione di Lazzaro adesso comincia il paragrafo seguente il capitolo seguente anche questo è lunghissimo quindi certamente non riusciremo a finire dentro oggi lo introdusiamo che si intitola si consumerà in un fuoco d'amore infinito chiaramente questa è riferita a Maria di Magdala sottotitolo gli apostoli si godono la pace di Betania e fanno progetti persuasi che ormai il maestro trionferà in lontananza Gesù passeggia con Lazzaro che lo ascolta beato leggo gli apostoli si allontanano verso la casa di Simone Gesù li avvicina no Gesù si avvicina invece con l'amico li ascolto dice Lazzaro sì lo avevo capito che c'era un grande scopo e certo di bontà nel lasciarmi morire pensavo che fosse per risparmiarmi la vista della persecuzione che ti fanno e tu sai se dico il vero ero contento di morire per non vederla mi inasprisce mi turba vedi maestro io ho perdonato tante cose a quelli che sono i capi del nostro popolo ho dovuto perdonare fino agli ultimi giorni e il chia ma la morte e la risurrezione hanno annullato ciò che era prima di esse a che ricordare le loro ultime azioni per darmi dolore io ho perdonato tutto a Maria e la sembra dubitarne anzi non so perché da quando sono risorto ha preso con me un atteggiamento così non so come definirlo è di una dolcezza e di una sottomissione così strana nella mia Maria neppure nei primi momenti in cui tornò qui redenta da te era così anzi forse tu sai me ne puoi dire qualcosa perché Maria tutto ti dice sai se quelli che sono venuti qui l'hanno forse rinproverato troppo io ho sempre cercato di sminuire il ricordo del suo fallo quando la vedevo assorta nel pensiero del passato per medicare il suo soffrire non se ne sa dare pace sembra così al di sopra di ciò che potrebbe essere avvidimento a certuni potrà parere anche poco pentita ma io comprendo io so tutto fa per espiare io credo che faccia grandi penitenze di ogni specie non mi stupirei che sotto le vesti avesse il cilicio e che le sue carni conoscessero il morso dei fragelli ma l'amore fraterno che ho io e che la vuole sorreggere facendo vero tra il passato e il presente non ce l'hanno gli altri sai se forse ella fu maltrattata da chi non sa a perdonare ed è così bisognevole di perdono non so Lazzaro Maria non me ne ha parlato mi ha detto solo di avere molto sofferto sentendo l'insinuazione dei farisei che io non ero il messia perché non ti guarivo o non ti risuscitavo e non ti ha detto nulla di me sai avevo tanto male ricordo che mia madre nelle ultime ore svelò cose che erano passate inosservate a Marte e a me fu come se il fondo della sua anima e del suo passato ricaleggiassero negli ultimi sommovimenti del cuore io non vorrei ha tanto sofferto il mio cuore per Maria e ha fatto tanto sforzo per non darle mai la sensazione di ciò che per lei ho sofferto non vorrei averla colpita ora che è buona mentre per amore di fratello prima e per tuo amore poi non l'ho mai colpita nel tempo infame quando erano Brobrio che ti ha detto di me maestro vedete domande dirette qui Gesù è un po' incalzato sentiamo la risposta saggia che darà in queste circostanze difficili così ne troviamo modificazione anche noi il suo dolore di aver avuto troppo poco tempo per darti il suo santo amore di sorelle di condiscepola nella tua perdita ha misurato tutta l'estensione di tesori di affetto che l'aveva calpestato un tempo ed ora è felice di poterti dare tutto l'amore che la vuole darti per dirti che tu per lei sei il santo amato fratello attenzione mi fermo vedete come ha risposto Gesù ha detto la verità ma non ha detto a Lazzaro che delirando gliene ha detto in sacchina sporta a Maria perché gli avrebbe dato un dolore spropositato perché lui temeva proprio di aver fatto questo rievocando anche l'agonia e la morte della mamma allora che cosa dice che ti ha detto di me maestro il suo dolore di aver avuto troppo poco tempo per darti il suo santo amore di sorelle condiscepola vero e attenzione nella tua perdita vedete la genericità ha misurato tutta l'estensione dei tesori di affetto che l'aveva calpestato un tempo eccolo qui gli sta dicendo quello che Lazzaro ha fatto ma non gli sta facendo capire che l'ha fatto lui però è vero che Maria di Magdala in conseguenza delle parole deliranti dette da Lazzaro ha misurato tutta l'estensione dei tesori di affetto che l'aveva calpestato un tempo abbiamo visto come si fa amici miei cari domanda diretta pericolosissima se Gesù dice tutta la verità dà un dolore immenso all'amico appena risorto manualmente quindi dice la verità nel modo con cui si può dire vedete qui a verità però non c'è proprio niente che non sia vero non ci sono riserve mentali non c'è niente si è inventato questo modo allora qui dobbiamo essere dobbiamo imparare figli lotta imprevista all'improvviso ti devi sbrigà non hai c'è questo troppo tempo a pensare per uscire dalle corde del ring come dire condisi di voltura e anche alla grande non avendo mentito ma non avendo nemmeno detto le cose che non si possono o non si devono dire questa è un'arte che si impara piano piano l'importante è che vediamo e comprendiamo che è una cosa possibile anche se è un pochino impegnativa e peraltro doverosa quindi ora è felice di poterti dare tutto l'amore che ella vuole darti per dirti che tu per lei sei il santo amato fratello ah ecco lo avevo intuito di questo ne godo ma temevo di averla offesa da ieri penso penso mi sforzo a ricordare ma non ci riesco perché vuoi ricordare hai davanti il futuro il passato è rimasto è rimasto nella tomba anzi neppure è rimasto lì è stato bruciato insieme alle funebri bende ma se ti deve dare pace ti dico le ultime parole che tu avresti per le sorelle per Maria per Maria in specie hai detto che per Maria sono venuto qui e ci vengo perché Maria sa amare più di tutti è vero lei ha detto che ella ti ha amato più di tutti quelli che ti hanno amato anche questo è vero perché ella ti ha amato rinnovandosi per amore di Dio e tuo le hai detto giustamente che tutta una vita di delizie non ti avrebbe dato la gioia che hai goduto per merito di lei e le hai benedette come un patriarca benediceva le sue più amate creature hai benedetto ugualmente Marta che dice in pace e Maria che dice di tua gioia sei in pace ora attenzione anche qui Gesù non sta mentendo perché se andiamo a rileggere il brano fino a quando Lazzaro non ha delirato ha detto esattamente queste cose lo ricordate quindi ha ringraziato Dio nonostante la malattia dice ma io ho visto Maria convertita quindi ho visto Maria convertita quindi Dio mi ha fatto il regalo che il più grande regalo non mi si poteva dare e quindi benedizioni a Maria convertita e a Marta sempre tanto amata quindi vedete e così l'ho finito di tranquillizzare del tutto impariamo l'arte dal nostro Dio e unico maestro perché questa è un'arte che dobbiamo tutti imparare sei in pace ora ora si maestro risponde Lazzaro sono in pace e allora poiché la pace dà misericordia perdona anche i capi del popolo che mi perseguitano perché questo volevi dire che tu tutto puoi perdonare ma non il male che fanno a me è così maestro e sentite che cosa Gesù ribatte no Lazzaro io li perdono tu li devi perdonare se vuoi essere simile a me oh simile a te non posso sono un semplice uomo Gesù risponde l'uomo è rimasto là sotto l'uomo il tuo spirito tu sai che cosa avviene alla morte dell'uomo è Lazzaro no signore non ricordo nulla di ciò che mi avvenne interrompe veemente Lazzaro Gesù sorride e risponde non parlavo del tuo personale sapere della tua particolare esperienza parlavo di ciò che ogni credente sa che gli avviene quando muore ah il giudizio particolare so credo l'anima si presenta a Dio e Dio la giudica è così e adesso ci sentiamo questa bella lezioncina di Gesù e il giudizio di Dio è giusto e inviolabile ed ha un infinito valore se l'anima giudicata è colpevole mortalmente diviene anima dannata se essa è levemente colpevole è mandata al purgatorio se essa è giusta va nella pace del limbo in attesa che io apra le porte dei cieli dunque io ti ho richiamato lo spirito dopo che esso era già giudicato da Dio se tu fossi stato un dannato sentite non ti avrei potuto richiamare la vita perché facendolo avrai annullato il giudizio del padre mio sentite che bella roba per i dannati non ci sono mutazioni più sono giudicati in eterno dunque tu eri nel numero di quelli che dannati non erano perciò o della classe dei beati o di quella che saranno beati dopo la purificazione ma rifletti amico mio se la sincera volontà di pentimento che può avere l'uomo essendo ancora uomo sia carne e anima ha valore di purificazione se un simbolico rito di battesimo nelle acque qui fa riferimento al battesimo di Giovanni Battista evidentemente voluto per spirito di contrizione dalle sozzure contratte nel mondo e per la carne ha per noi brevi valore di purificazione ma che valore avrà il pentimento più reale e perfetto molto più perfetto di un'anima liberata dalla carne conscia di ciò che è Dio illuminata sulla gravità dei suoi errori illuminata sulla vastità della gioia che si è allontanata per ore per anni o per secoli la gioia della pace limbale che presto sarà la gioia del raggiunto possesso di Dio che sarà la purificazione duplice triplice del pentimento perfetto dell'amore perfetto del bagno nell'ardore delle fiamme accese dall'amore di Dio e dall'amore degli spiriti nel quale dal quale gli spiriti si spogliano da ogni impurità ed emergono belli come serafini coronati da ciò che non corona neppure i serafini il loro martirio terreno e oltraterreno contro i vizi per l'amore che sarà dillo dunque amore amico mio ma non so una perfezione meglio una ricreazione ecco hai detto la giusta parola l'anima viene come ricreata l'anima divene simile a quella di un infante è nuova tutto il passato non c'è più il suo passato d'uomo quando cadrà la colpa d'origine l'anima senza più la macchia e ombra di macchie sarà super creata sarà la linea del paradiso io ho richiamato la tua anima che già si era ricreata per la volontà al bene per l'espiazione della sofferenza e della morte e per il tuo perfetto pentimento e perfetto amore raggiunti oltre la morte tu hai dunque l'anima tutta fatta innocente di un pargolo nato da poche ore e sei un fanciullino neonato perché vuoi indossare su questa fanciullezza spirituale e se sei un fanciullino neonato scusate perché vuoi indossare su questa fanciullezza spirituale le grevi pesanti vesti dell'uomo adulto i fanciulli hanno ali e non catene al loro spirito irare essi non mi imitano con facilità perché non hanno ancora preso nessuna personalità si fanno come io sono perché sulla loro anima vergine di impronte si può imprimere senza confusione divine la mia figura e la mia dottrina hanno l'anima priva di umani ricordi di risentimenti di preconcetti non c'è nulla e ci posso essere io perfetto assoluto come sono in cielo tu che sei come rinato un nato nuove la mente perché nella tua vecchia carne il potere motore è nuovo senza passato mondo senza tracce di ciò che fu tu che sei tornato per servirmi solo per questo devi essere come io sono più di tutti guardami guardami bene specchiati in me e in te riflettimi due specchi che si guardano per riflettere uno nell'altro la figura di ciò che amano tu sei uomo e sei bambino sei uomo per età sei bambino per bondezza di cuore hai sui bambini il vantaggio di conoscere già il bene e il male e di aver già saputo scegliere il bene anche prima del battesimo nelle fiamme dell'amore ecco ebbene io ti dico a te uomo dallo spirito mondo della purificazione avuta sii perfetto come lo è il padre nostro dei cieli e come lo sono io sii perfetto sia sii simile a me che ti ho tanto amato da andare contro a tutte le leggi della vita e della morte del cielo e della terra per riavere sulla terra un servo di Dio e un vero amico mio e in cielo un beato un grande beato lo dico a tutti siate perfetti ed essi i più non hanno il cuore che tu avevi degno del miracolo degno di essere preso per strumento ad una glorificazione di Dio nel suo figliolo ed essi non hanno il tuo debito d'amore verso Dio lo posso dire lo posso esigere da te io posso esigere da te e per prima cosa io esigo nel non avere rancore per chi ti offese mi offende perdona Lazzaro perdona sei stato immesso nelle fiamme accese dell'amore devi essere amore per non conoscere mai più altro che l'amplesso di Dio e così facendo compirò la missione per la quale tu mi hai resuscitato così facendo la compirai basta così signore non ho bisogno di chiedere e di sapere di più servirti era il mio sogno se ti ho servito anche nel nulla che può fare il malato e il morto e se potrò servirti nel molto che può fare il risanato il mio sogno è compiuto non chiedo di più che tu ci abbia benedetto Gesù Signore Maestro mio e con te benedetto colui che ti ha mandato benedetto sempre il Signore Dio Onnipotente allora direi amici di fermare la lettura perché poi da questo momento comincerà la parte da cui prende titolo anche il capitolo dedicata a Maria qui fondamentalmente stiamo abbiamo assistito assistito ad un appendice dei dialoghi tra Gesù e Lazzaro dopo la risurrezione e specialmente queste ultime esternazioni di Gesù sono molto importanti allora andiamo un attimo a ripercorrerle anzitutto Gesù afferma solennemente il giudizio di Dio il giudizio particolare ce ne parla Gesù in persona quindi andiamo a ripercorrere alcuni passaggi è giusto e inviolabile anzitutto ed ha un infinito valore se l'anima giudicata è colpevole mortalmente diviene anima dannata se è lievemente colpevole è mandato al purgatorio se è giusta va nella pace del limbo in attesa che lo apro le corte dei cieli ora più che mai in questi giorni ci dirigiamo verso il sabato santo il giorno in cui la chiesa appunto non celebra culti pubblici perché ricorda la discesa degli inferi del signore noi dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale che prima della morte in croce di Gesù anche perché ne comprendiamo il valore in cielo non c'era andato nessuno ma nemmeno Mosè ma nemmeno Mosè ma nemmeno Abramo ma nemmeno Abramo ma nemmeno i profeti ma nemmeno i profeti ma nemmeno San Giuseppe ma nemmeno San Giuseppe ma nemmeno San Giovanni Battista nemmeno San Giovanni Battista ma come è morto martire gli hanno tagliato la testa per amore della verità, per amore di Gesù per essere fedeli all'annuncio senza avere paura di dire a un adultero tu sei un adultero peccato mortale, non puoi tenerti in vita la moglie di tuo fratello, dovete andare ognuno a casa sua perché per questo è morto San Giovanni Battista non era andato in paradiso San Giovanni Battista? no, non era andato in paradiso San Giovanni Battista non lo era perché? perché non era ancora compiuta la redenzione perché col peccato originale in paradiso non ci va nessuno non è uno scherzo la dottrina cattolica sul peccato originale non è uno scherzo i motivi per cui Gesù ha sofferto tutto quello che ha sofferto certo, sono i peccati di tutto il genere umano, sì ma una componente assolutamente prioritaria è il peccato originale di queste cose Gesù ne parla e le spiega molto bene nell'opera di Maria Valtorta il peccato originale poi dice un'altra cosa molto importante Gesù ti ho richiamato quindi sta attento ti ho potuto richiamare alla terra perché? perché tu non sei dannato così tu capisci da questo evento che morto che eri non eri un cittadino dell'inferno perché dall'inferno non c'è ritorno figli alli miei cari e il giudizio di Dio è inesorabile e spiega Gesù se fossi stato all'inferno non ti avrei richiamato perché facendolo avrei annullato il giudizio del Padre mio per i dannati non ci sono mutazioni più sono giudicati in eterno figli alli miei cari qui dobbiamo pensarci perché qui io non ho nessunissima paura né remore di continuare a dire queste cose quanto più che oggi continuano ad essere colpevolmente taciute da troppi con grandissimo danno o pericolo grave per le anime perché la dannazione non è una chimera dice ma sai eh all'inferno ma chi vuole che ci va all'inferno su uno deve essere proprio un criminale un delinquente un bandito non è affatto così non è affatto così aprite i catechismi si dice che all'inferno ci va chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito ma peccato mortale è anche commettere un attimo puro solitario cosa molto molto a quanto pare frequente peccato mortale è anche mancare alla messa domenicale senza che ci sia una grave necessità peccato mortale è bestemmiare dico soltanto le cose più frequenti peccato mortale è non mettere Dio al al primo posto magari andando a cercarsi i surrogati di Dio per bucare il futuro o cose del genere come avviene nello spiritismo nell'occultismo peccato mortale è il diritto d'aborto recentemente è diventato diritto costituzionale in una nazione d'Europa ne ho già parlato di questo solo che qualcuno dimentica dato che ne ho già parlato che nel catechismo della chiesa cattolica c'è scritto guarda un po' che ci sono alcuni peccati che gridano vendita al cospetto di Dio che significa che gridano vendita al cospetto di Dio guardate queste cose non me ne sono mica mentate io stanno tutti nel catechismo vi sapete quali sono i peccati che gridano vendita al cospetto di Dio? li sappiamo? e che significa gridare vendita al cospetto di Dio? punto interrogativo gridare vendita che significa? significherà qualcosa no? si dica che Dio li castiga no? nel nuovo catechismo della chiesa cattolica quindi perché nel catechismo di San Pio X nel catechismo romano al numero 1867 quindi questo è il nuovo catechismo quello promulgato da San Giovanni Paolo II quindi quello post conciliare perché quando si parla di certe cose torna subito la solita il solito mantra no? questo è preconciliare oppure questo è tridentino leggo il 1867 del nuovo catechismo della chiesa cattolica la tradizione catechistica ricorda pure che esistono peccati che gridano verso il cielo che chiama così peccati che gridano verso il cielo gridano verso il cielo cioè stanno gridando verso il cielo che cosa grideranno verso il cielo? vedete qui c'è già un po' di attenuazione della crudezza del linguaggio però almeno vediamo quali sono il sangue di Abele cioè il sangue innocente tra i peccati che gridano vendetta a cospetto di Dio e il primo all'omicidio volontario ma il sangue innocente c'è qualcosa di più innocente forse del sangue di un bambino concepito? non c'è niente di più innocente di quello perché un bambino nel grembo della madre c'ha solo il peccato originale non ha colpe personali capite? ecco perché io ho sempre detto per chi non lo sapesse io prima di diventare sacerdote ho studiato la giurisprudenza fino alla fine quindi ho conseguito la laurea alla sapienza di Roma cioè l'omicidio è l'uccisione di un essere umano innocente cioè innocente nel senso che non ha fatto come dire reati d'accordo o cose per cui se lo merita che ne so la legittima difesa o robe del genere no? ma c'è forse qualcosa di più innocente di un di un concepito di un feto? e tu non soltanto fai una legge che consente di ucciderlo ma la trasformi in diritto costituzionale se il sangue di Abele grida verso il cielo il sangue innocente di questi di queste povere creature per le quali adesso non sarà più possibile in una nazione d'Europa dire ci siamo sbagliati cambiamo la legge e impediamo questa mattanza questo non grida verso il cielo non grida verso il cielo a quanto pare per qualcuno non grida verso il cielo queste cose non sono più vere però stanno scritte nel nuovo catechismo della chiesa cattolica non dentro la testa di qualche prete tridentino che poi io devo sempre ancora capire che cosa significa prete tridentino come quelli che dicono eh ma noi dobbiamo essere fedeli a questa chiesa alla chiesa di oggi mi tolgo gli occhiali sempre quando faccio dico non ho capito bene l'ultima sillaba che è G la chiesa di oggi c'è una chiesa di oggi secondo noi che è diversa da quella di ieri ah se ci fosse una chiesa di oggi che è diversa da quella di ieri questa non è una chiesa cattolica perché la chiesa cattolica come il suo fondatore è la stessa ieri oggi e sempre mi sembra che nella sacra scrittura ci sia scritto che Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi e sempre quindi la sua sposa non è che Gesù Cristo è lo stesso e poi la sposa cambia perché la chiesa è la sposa di Cristo quindi la chiesa di oggi non è diversa dalla chiesa tridentina che sembra uno spauracchio la chiesa tridentina e che bisogna vergognarsi della chiesa tridentina o della chiesa del concilio aderlanense o della chiesa del concilio di Nicea o della chiesa che ha combattuto contro Ario ma stiamo scherzando stiamo la chiesa è sempre la stessa quindi attenzione il sangue di Abele ah il peccato dei sodomiti e qual era il peccato dei sodomiti da cui deriva anche un vizio specifico che si chiama la sodomia poi il lamento del popolo oppresso in Egitto l'oppressione dei poveri il lamento del forestiero della vedo e dell'orfano ancora l'oppressione dei poveri e poi l'ingiustizia verso il salariato defrodare la giusta merceda agli operai i quattro peccati che gridano vendetta a cospetto di Dio problemi queste cose non cambiano non possono cambiare non cambieranno mai non esiste la chiesa di oggi e la chiesa di ieri non esiste questa chiesa e quella chiesa non esiste la chiesa preconciliare la chiesa post conciliare ah tu sei preconciliare ma che razza di discorso io non lo accetto un discorso del genere e chi lo fa si vanno a confessare chiaro? si vada a confessare non esiste adesso in altre mode la chiesa di Giovanni Paolo II la chiesa di Benedetto la chiesa di Francesco ma stiamo scherzando stiamo o la chiesa di San Pio X che era un'altra ma stiamo scherzando ma non esiste una cosa del genere non è che se c'è un Papa c'è la chiesa di quel Papa ma stiamo scherzando stiamo ma dico ma stiamo andando al manicomio stiamo andando e si dicono queste cose c'è un conto che le dicono i giornalisti in televisione no? ah c'è la chiesa di questo dico ma quello non capisce niente si spera dell'essenza del cattolice ma mica le diremo noi queste cose qui no? ma mica le dirà un prete o un vescovo ma stiamo scherzando stiamo scherziamo? a me mi sa che più di qualcuno non scherza e si faccia un esame di coscienza si vada a confessare perché se c'è una chiesa di oggi diversa da quella di ieri c'è qualcosa che non funziona perché o non va bene la chiesa di oggi o non va bene la chiesa di ieri ma non è che la chiesa cattolica è schizofrenica d'accordo? o che si può ammettere come qualcuno ha detto che c'è stato un blackout un letargo sapete i modernisti che cosa dicono no? che la chiesa che la chiesa da quando è diventato imperatore Costantino quindi che è finita l'epoca dei duri e puri quindi dei perseguitati della mattanza di Diocleziano l'ultima grande persecuzione questo ha riconosciuto la religione diventa la religione dell'impero quindi adesso ci sbrachiamo e da questo momento in poi la chiesa come dire cessa di essere se stessa quindi ha tradito la sua cosa si è inventata un sacco di cose strane poi nel medioevo non ne parliamo hanno fatto tutte queste cose tutte queste dottrine la transustanziazione il sacrificio caristico tutte cose che mi inventate nel medioevo poi finalmente c'è stato finalmente un momento in cui dopo l'età dei lumi i lumi sono tornati in testa anche ai cristiani cattolici e piano piano hanno concorsa a liberarsi da sto incubo quindi praticamente noi abbiamo mille e quasi 600 anni di storia della chiesa che tutto da buttare via perché c'è stato un tradimento ma dico ma stiamo ma dico ma queste cose io mi infervero perché sono state scritte nere e su bianco ma mica mica da da qualche qua da blasonati e rinomati teologi ok modernisti ovviamente ma noi non possiamo dar retta a robe del genere ok adesso il tempo è scaduto insomma però stavamo parlando di di nostro signore Gesù Cristo che ricordava a Lazzaro il giudice particolare e che lui è rientrato solo perché non stava all'inferno mi raccomando non perdiamo il senno e non smarriamo le le sane radici e stiamo attenti stiamo attenti alle sirene a cui diamo ascolto oggi aprite il catechismo della chiesa cattolica come ho fatto io adesso perché dice ma come c'è Tizio che dice A e Caio che dice B a chi devo dare retta Giovanni Paolo II dice A chi devi dare retta apri il catechismo d'accordo aprili tutti i catechismi poi eh perché pure qua io adesso ho aperto apposto il nuovo catechismo ma il catechismo anche se espresso in termini diversi il catechismo romano del concilio di Trento il catechismo di San Pio X il nuovo catechismo dicono la stessa cosa eh con linguaggio differente va bene con stili differenti ci può stare ma dicono la stessa cosa non ci potrà stare mai un catechismo che dica un'altra cosa perché sennò quel catechismo non è il catechismo della chiesa cattolica è il catechismo di qualcos'altro o di qualcun altro chiaro? mi raccomando eh che Dio vi benedica amici cari e che la Santa Vergine sempre vi protegga grazie per il tempo in cui siamo stati insieme in diretta e alla prossima e siano notati Gesù e Maria non ci potrà grazie a tutti grazie a tutti